Il metodo Aranzulla Sono Sciro Muto, mi occupo di finanza, management e crescita personale se questi argomenti ti interessano lascia un like, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina delle notifiche per non perderti i prossimi video Bene, oggi ho deciso di parlarti di questo libro che è il metodo Aranzulla anche se non c'entra nulla con i tre argomenti che ti ho appena descritto e mi segui da un po' sono sicuro che avrai notato che scrivo una quantità enorme di articoli all'interno del mio spazio web Quando ho acquistato questo libro che è il metodo Aranzulla ero alla ricerca di un metodo per posizionare meglio i miei articoli e non c'è nessuno migliore di Salvatore Aranzulla quando si tratta di posizionamento ad oggi il suo sito conta più di 17 milioni di visite mensili e la sua attività nell'ultimo anno ha fatturato oltre 2 milioni di euro Ho letto questo libro tutto d'un fiato perché i contenuti racchiusi al suo interno sono davvero interessanti per chiunque si voglia avvicinare ad una qualsiasi attività sul web ma più nello specifico a chiunque voglia scrivere per il web è un libro di sole 170 pagine che si legge veramente in un giorno nella prima parte l'autore racconta la sua storia e quali sono stati i suoi inizi come da un piccolo blog si è trasformato in una grande azienda amo molto leggere gli inizi e la storia degli autori quando si tratta di un libro nuovo che ritengo che tra le righe qualsiasi autore lascia sempre una parte di sé nel caso di Aranzulla traspare la sua completa dedizione e il suo completo innamoramento verso quello che fa tutti i giorni nella seconda parte del libro che è poi la parte più importante l'autore ci spiega quali sono gli strumenti e qual è il suo metodo per creare dei contenuti che si posizionino bene all'interno del motore di ricerca ha definito il suo metodo metodo Aranzulla ed ha creato un metodo per la ricerca dei titoli che ti offre l'opportunità di creare degli articoli su misura in base alle ricerche che vengono effettuate sul web nella terza parte del libro l'autore ci spiega quali sono i metodi per monetizzare un sito internet e come si può fin da subito iniziare a guadagnare online personalmente ho tratto tanti consigli da questo libro e credo che sia una spesa veramente irrisoria per la mole di informazioni contenute al suo interno se uno dei tuoi obiettivi è quello di creare un'attività online allora il metodo Aranzulla è uno dei libri che fa al caso tuo ognuno di noi almeno una volta nella vita è finito sul suo sito e se ci sei capitato anche tu è perché lui scrive degli articoli uno che risolvono un problema e due che sono veramente ben posizionati con questo è tutto io sono Ciro Muto questo era il mio video dedicato alle recensioni sui libri se vuoi ulteriormente approfondire chi sono e che cosa faccio vai su www.ciromuto.com e scopri tutti i miei servizi e tutti i miei prodotti questo è tutto io ti saluto e ti aspetto nel prossimo video questo è tutto